Si è aperta in una cornice imbiancata dalla neve caduta nella notte sulla città di Aosta la 1015esima edizione della Fiera di Sant'Orso. L'appuntamento, atteso tutto l'anno da migliaia di visitatori, presenta le migliori realizzazioni che gli artigiani valdostani del legno, del ferro, della pietra e dei tessuti producono con pazienza e competenza. È un momento di festa, un momento di incontro, un momento di relazioni tra gli artigiani e della comunità valdostana ma che ha saputo anche avere una grossa capacità attrazionale verso l'esterno della Valle d'Aosta, verso tutti coloro che vogliono beneficiare di queste straordinarie emozioni che può garantire questa due giorni. Ogni espositore cerca di presentare qualche novità che sia in grado di attirare l'attenzione delle tante persone che affollano il centro storico di Aosta. Ho creato degli uccelli con dell'onice di quattro cave diverse che ho recuperato nella zona di San Nicolà e di Sarre e ho voluto creare questo senso di libertà e di leggerezza che di solito con la pietra non riesco tanto a creare. Quest'anno come novità ci sono l'albero delle pecore, la lumacona e il soldato medievale e poi i miei soliti tatà. Quest'anno abbiamo portato delle sciarpe con dei quadri, con una elaborazione diversa che da poco che siamo riusciti a mettere sull'ordito. Un po' difficile però comunque ci dà un sacco di soddisfazione. Canappe di sciampo c'è qualsiasi cosa, soprattutto per la casa, dalle tende, le lenzuola, i canovacci, i grembiuli. Abbiamo anche la sedia rivestita. Poi abbiamo fatto le pantofole. Parlare di artigianato può talora sembrare riduttivo. Ciò che si espone alla fiera di Sant'Orso è in larga parte arte. Innovazione, ricerca, colore, scultura, come al solito. Io ho sempre fatto i costumi valdostani, poi anche le nostre feste perché sono pannelli che piace la gente, poi rallegano anche l'ambiente che vengono messi. Nel 2015 ricorrono i 150 anni della conquista della Veta del Cervino, una circostanza che alcuni artisti hanno celebrato con le loro opere. Ho rappresentato la Veta del Cervino e la conquista. In cima la cordata di Wimper che è arrivata in Veta tre giorni prima e sul Peak Tindal c'è la cordata delle guide di Valtoronance che poi quel giorno lì sono ritornati indietro e sono saliti poi tre giorni dopo. Ho voluto realizzare questa scultura che è un Cervino stilizzato, quindi con l'alpinista gnomo in cima alla Veta. La fiera di Sant'Orso è nata come fiera agricola, destinata all'approvvigionamento di quanto necessario prima dell'inizio della stagione propizia alle colture. Oggetti e attrezzi che si trovano ancora in una duplice veste. Il rastrello fatto così ancora in maniera artisanale, il contadino, insomma, quello che lo sa usare lo apprezza ancora. E poi anche per bellezza, perché no? Il numero degli espositori è quest'anno in aumento, 1183. Un numero crescente di persone si dedica quindi all'artigianato valdostano di tradizione. Questo ci dà molta soddisfazione, ci rende felici perché significa che c'è una grande vitalità nel settore, una vitalità che è anche ascrivibile a tutta l'attività che viene svolta durante l'anno sul territorio, percorsi di formazione, corsi di avvicinamento, botteghe a scuola, corsi presso le scuole. E quindi per favorire anche un ricambio generazionale e tenere viva la materia della tradizione.